Attraverso una fondazione che sarà chiamata Fratelli Tutti vorremmo contribuire a progettare e a realizzare il nuovo umanesimo, così come anche il Presidente del Consiglio lo ha chiamato, promuovendo in modo sinodale l'apporto di ciascuno secondo i propri ambiti di impegno e di competenza. La politica e l'economia, la qualità delle nostre relazioni sociali e personali hanno bisogno di umanesimo integrale, direbbe Papa Francesco. Così la fondazione che nascerà dalla fabbrica di San Pietro avrà almeno tre grandi ambiti di azione. L'area che afferisce all'arte, in particolare quella sacra, quella che si occupa di formazione e quella del dialogo con popoli, culture e religioni. Uno strumento agile, trasparente, al servizio delle persone, perché vogliamo investire sulle persone, offrire loro uno spazio, permettere che si ritrovino, costruiscano una comunità di pensiero, di vita e si impegnano nel mondo, per cui organizzeremo eventi e percorsi, esperienze e momenti intorno alla Basilica Madre della Chiesa Cattolica. Il nostro desiderio è far incontrare giovani e adulti, manager e lavoratori, economisti e politici, amministratori e studiosi, scienziati e imprenditori. Allora chi vuole e può darsi una mano sarà il benvenuto. Allora chi vuole e può essere il mio aspetto medioblondo. Grazie a tutti.